Nicola, io e Valerio sono due migliori amici, nonché vicini di casa. Valerio è sposato con Marta e Nicola, che è gay, convive con Leonardo. Due situazioni abbastanza tranquille, finché è un bel giorno... Pronto? Pronto, Pa? Nicola, mio bello! Come stai? Bene, bene, ti devo dare una bella notizia! Ah, vai, vai, vai! Sto sul treno e sto venendo a Roma a trovarti! No, no! Sei contento, eh? Sei contento? Ci sia, Nicola, è arrivato il momento opportuno, proprio il momento giusto! Io devo conoscere la tua fidanzata! Papà, non si può fare, non posso! E perché? Perché? Perché ho casa che è tutta in mezzo, è un disordine... No, Nicola, a me non mi passa manca la capa che c'è casa in disordine, no! Io ormai sto sul treno e che faccio? Me ne torno a Napoli, me ne torno... E poi ho tanta voglia di vederti! Nicola, ci vediamo fra un poco, eh? Sei contento, Nicola? Bello, bello, figlio mio! Mua! A questo punto Nicola si vedrà costretto a chiedere aiuto al suo migliore amico, cioè a Valerio! Pronto, Vale? Ciao, bello, come stai? Sì, senti Vale, devo chiederti un favore, non è che per un paio di giorni potresti prestarmi casa? E già che ci stai, anche tua moglie... Sì, no, 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 non t'arrabbiare, non t'arrabbiare, lascia che ti spieghi! Papà sta venendo da Napoli, su a Roma! Sì, ecco, bravo, però papà non sa che io sono gay, ma sa che convivo con una donna che si chiama come tua moglie! Sì, lo so, lo so, non te ci mette pure te, lo so, è il primo nome che mi è venuto in mente... Dai, ti prego, me lo fai questo favore? Grazie, sì, 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 ti prometto che domani li dico tutto, sì, sì, che sono gay, che... Oh, e poi basta con sta storia, Vale, cioè essere gay mica è una malattia, eh? Manca una botta di culo, simpatico, eh? Oh, dai, ti saluto che sta qui alla porta, un bacio, ciao, Vale, ciao, 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 ciao! Nicola, Nicola, mio bello, come stai? Mi piace di vedere, Nicola, levami in una curiosità, ma tu in che palazzo apri? Papà perché non ti piace, guarda che bella struttura! No, 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 bello, l'ho visto da fuori, elegante, struttura ben solita, si vede, come no? Eh, infatti... Ma non ti vado ad incontrare un ricchione proprio qua fuori? Un ricchione? Eh, non tipo tutto strano, camminava così, camminava... No, 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 Nicola, per carità, eh, sentimi bene, senti a papà tuo, ubriacati, rubati, drogati, fai quello che vuoi tu, ma gay mai! Che bello vederti papà! Prendo in prestito tua moglie, scritto e diretto da Luca Franco, a Roma, al Teatro dei Servi, dal 23 settembre al 12 ottobre. Grazie! Grazie!